I militari della stazione Carabinieri Forestali di Secinar, unitamente a personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale dell'Aquila, hanno posto sotto sequestro quattro appezzamenti di terreno utilizzati dall'officina meccanica di un 71enne, sui quali aveva accumulato senza autorizzazione materiale ferroso di vario genere. Su un'area di circa 500 metri quadri vi erano motori e parti di essi. Su un'area di 15 metri quadri vi erano fusti metallici contenenti materiali ferrosivari, pneumatici dismessi. Su circa 1000 metri quadri c'era un'autovettura in disuso e sull'area di circa 1200 metri quadri vi era un grande deposito di parti di automobili come sportelli e paraurti, elettrodomestici, lamiere, infissi, materiale metallico di edilizia. Le ipotesi di reato contestate al responsabile dell'autofficina comprendono l'attività di raccolta, recupero, smaltimento e commercio di rifiuti, nonché la realizzazione di una discarica non autorizzata, previste dagli articoli 192 e 256,123 del decreto legislativo 152 del 2006, che prevedono la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni, l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro. Inoltre è stata ipotizzata una gestione illecita di veicoli fuori uso e di parti di essi, che prevede l'arresto da 6 mesi a 2 anni, l'ammenda da 3.000 a 30.000 euro.